Quest'anno mi sta riuscendo bene, speriamo solo di continuare così, ma solo per l'obiettivo della squadra e non quella persona. Di Avellino mi piace tanto la curva. Castaldo è il protagonista di un'azione di 50 metri, terzo gol in campionato per Castaldo. Castaldo! Splendido gol di Castaldo. Con la splendida notizia di Gigi Castaldo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Castaldo! 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 Castaldo!